una amica sei sposata e mammitata l'ha già fatto regalo e non so chiudo ma intanto appure indietro ha già saputo che per l'anni stufata sei lagnata è nata amica è morta ha già mandato una ghirlanda com'urdo mi saluto non so chiudo alle segui zitta e muta brucessione triste e addorata perché faccia così perché sono artista e voglio figurare non trovere qui se non mi fanno fare un protagonista perciò ha la sposa Rizia a parte mia sarebbe che la dovevo sposa e in delle segui sarebbe che la dovevo muerta a rasso sia Grazie a tutti